Il Visconte di Mezzato Sei in cerca di farfalle notturne? Mi nota! No, mi nota! In cerca veramente di fuochi fattus Fuochi fattus Fuochi fattus Fuochi fattus Beh, in questo cemiterro abbandonato Non mi sembra che ci sia il campo Per fuochi fattus Ma io provvederò ad aiutarti E già da domani avrai i miei aiuti L'indomani, in effetti, il Visconte Condannò a morte una decina di compagni Perché, secondo i suoi computi, non avevano corrisposto tutta la parte di raccolto Che dovevano al castello I morti furono seppelliti nella terra delle fosse comuni E il cemiterro buttò fuori ogni notte una grande vizia di fuochi Il dottore era tutto spaventato da quest'aiuto Se la nemmi tornasse inutile per i suoi study Eh sì, studi che lo distoglievano però Da cercare delle cure per la lepra Grazie a tutti